Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Allora oggi parliamo di un argomento che in qualche modo è collegato ai tragici eventi che purtroppo stanno colpendo l'Ucraina. E in questo caso c'entrano le arti marziali perché apprendiamo che la World Taekwondo, quindi la Federazione Mondiale Taekwondo, ha revocato la cintura nera onoraria al presidente russo Vladimir Putin. Che ricordiamo è anche ottavo dan di Karatekyo Kushinkai, ma se continua così molto probabilmente credo che li revocheranno anche quel grado lì. Comunque, e infatti già gli era stato revocato il grado onorario del Judo e quindi adesso anche il Taekwondo. Infatti questo breve comunicato dice dopo il Judo anche il Taekwondo, la World Taekwondo Federation revoca la cintura nera onoraria a nono dan a Putin. Era stata assegnata nel 2013, così il comunicato. World Taekwondo condanna fermamente i brutali attacchi alle vite innocenti in Ucraina che vanno contro la visione del World Taekwondo. La pace è più preziosa del trionfo e i valori della World Taekwondo di rispetto e tolleranza. Quindi questo il comunicato volevo appunto farvelo sapere perché è una notizia importante e io direi che bene hanno fatto gli organi preposti da World Taekwondo perché ovviamente di fronte a una tragedia simile, di fronte a una guerra in realtà non provocata, nel senso che Putin ovviamente ha utilizzato, ha fatto questo attacco secondo me in maniera anche abbastanza gratuita. Ecco, diciamo che appunto io credo che sia il minimo che si possa fare, quindi diciamo che la World Taekwondo ha revocato appunto la cintura nera onoraria a Vladimir Putin. E io direi che è stato un atto secondo me più che legittimo, visti anche i crimini contro l'umanità che sta attuando purtroppo Vladimir Putin in Ucraina. Quindi volevo darvi questo aggiornamento marziale. Bene, io ho concluso questo mio video di oggi, spero vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto ovviamente mettete like, commentate e condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video. Arigatou go, zamastou.